Un cordiale saluto a tutti gli amici campanari. Mi trovo nella chiesa parrocchiale di Sant'Andrea Apostolo, in Sant'Agata di Puglia. Voi vi starete chiedendo come mai sono qui. Bene, sono venuto perché qui abbiamo un problema alla campana grande, problema risolvibile. Cioè la campana grande quando sta accesa per 2-3 minuti a distesa prende sempre più quota e suona troppo alta e mi va a sbattere contro il muro. Allora a questo punto io devo salire sul campanile per regolare la regolazione della campana e in più devo ingrassare la catena perché voi sapete che la catena si ingrassa due volte l'anno e poi si lubrifica con il gasolio almeno una volta all'anno. Spero che queste cose i campanali le sanno. Bene, adesso saliamo sul campanile. Questa è la porta d'ingresso del campanile. Quindi mi accingo a salire nel campanile. Guardate campana l'80 per salire sul campanile deve salire su questa scala. Bella dritta 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 dritta. Avete visto? E va bene. No, per farti capire che non tutto è rosa ai fiori facciamo partire la campana dal quadro comandi e vediamo un po' come va questa campana. Tentiamo santanicello, vediamo qua. E va bene. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Abbiamo salvato la distesa della campana, maggiore. Questa è la piccolina, guardate, datata 1933. 933, fusa nel 1924 e rifusa nel 1923 da Don Paolo Mazzeo. Ho gridato Don Paolo Mazzeo perché mi è volata la borsa dove tenevo il grasso. Questa è la campana, le ultime oscillazioni e adesso chiudiamo il motore che mi sta da di là. Ciao ciao, voglio farvi vedere una cosa che ho scoperto oggi. E sicuramente qualcuno ne sarà felice. Allora, questa campana si vede benissimo, è una splendida Marinelli. di presidente Paolo Maruotti, forse del comitato della Madonna dell'Aiuto dell'Epoca, il Sacro Cuore. Paolo Maruotti, no, questa non è una Marinelli, è una giustozzi del campanaro di Trani, come è stata fatta anche il campanone di Sant'Angelo. Quindi, di Trani, Monsignor Antonio, Labriola, era il vecchio parroco che è stato prima qui e poi a San Nicola, Labriola, Leonardo Colotti. Poi, io non so nemmeno inquadrando la telecamera dove è, figuriamoci. Cosa dice, con l'ausilio dei fedeli e cooperatori, cooperatori, costruire un nuovo suono per i vivi e per i morti. Ottobre 1957, quindi il campanone è dell'ottobre del 1957 e all'epoca qui c'era Don Antonio Labriola, come varroco. San Giuseppe, no, Sant'Antonio, il Santissimo, l'Assunta ed è qui il Sacro Cuore. Bene, andiamo alla seconda campana. Campanaro 67, ci sei in linea? Ascolta bene, che ho scoperto oggi? Allora, rifusa nel... Qua in latino... Allora, fusa, scusami, rifusa nel... Qua in latino, a cura del parroco Don Paolo Mazzeo, fusa nel 1924 e rifusa nel 1933. Ma... Chi ha fuso questa campana distesa della piccolina? Eh sì, non ci sta, vabbè. Allora, se la grande è di Giustozzi, si presume che la piccola è anche di Giustozzi. Invece no, vedete? Premiata Fonderia Pasqualini... Eh sì, Davide, Pasqualini... Fermo... Marchè... Questa è una splendida Pasqualini. Quindi a Sant'Agata abbiamo anche una campana della Pasqualini. Bene, dopo aver fatto felice Campanaro 67, a Francia è musicista, musicista 97. Adesso vi saluto perché qua il tempo minaccia. Lì giù, lì giù, sapete benissimo, è San Michele Arcangelo. Lì giù è la Madonna delle Grazie. E poi qui non si vede né Sant'Antonio né San Nicola. Accontentiamoci di quello, va bene? Ciao! Saluto a tutti da Campanaro 80. E chissà se prima di Natale riesco a fare un altro video. Altrimenti... Altrimenti... Buon Natale a tutti! Guardate, guardate... Questo è il campanile restaurato. Come sempre le pietre cadono. Va bene... Ciao ciao! Siamo qui al quadro di distribuzione. Guardate, questo è la pista per il suono funebre, perché fa da noi in paese. due rintocchi, la campana piccola e uno la grande. E questo è il funebre. Qui abbiamo... Teleruttore della campana grande distesa. Andata, ritorno. Teleruttore del martello. Ora è staccato l'interuttore generale. Martello della grande. Piccolina. Teleruttore. Che azione, vedete? Il quadro generale. Qui abbiamo i due... Come cacchio si chiamano loro? Cacchio si chiamano loro? Eh, non capite male. I due raddrizzatori a ponte. che sono collegati ai martelli. Il trasformatore di linea. Questo qui è il temporizzatore per alcuni programmi semiautomatici. Qui suona la suonata feriale della messa a rintocchi della grande. Dan, 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 dan. E qui poi è regolato il tempo del trapasso e della suonata della messa, perché il trapasso viene azionato tramite un pulsantino e quindi dura, che ne so, 2-3 minuti e secondo come finisce il giro. Questo è un buon quadro di distribuzione. Adesso guardate la scala che devo scendere. Tutta storta, malotta. Giù ad attendermi c'è il cesurisort che se cado mi prende lui in braccio. Sì, come no. Ciao ciao. Non si vede un cranky. Interruttore quadro. Distesa. Questo è il pulsantino per suonare il trapasso e il funebre. E questa è la messa feriale. E qui i due rintocchi. Vabbè. Vi saluto con questa splendida immagine della chiesa. Qui abbiamo tutto a portata di mano perché quando veniamo a suonare le campane, ai momenti clu dei gloria, voi sapete che al gloria del Giovedì Santo, al gloria di Natale, al gloria di Pasqua. Allora, campane e campanelle. Questo è il presepe realizzato dai componenti della confraternita della Madonna dell'Aiuto. Un saluto a tutti i campanari con l'immagine di Maria di Costantinopoli, la corona di Avvento e la splendida immagine di Maria Santissima dell'Aiuto che viene portata in processione e che i santagatesi impazziscono per questa Madonna. Di qui abbiamo Santa Filomena, Santa Maria Goretti, Santa Rita e l'altare del Santissimo con il Crucifisso. Buona giornata a tutti. Ciao, ciao.